buongiorno ragazzi buongiorno appassionati di formula 1 allora 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 annuncio che la live della quale ho parlato la live con ogni probabilità chi vuole interagire con il sottoscritto ho deciso di fare la live domani pomeriggio alle ore 15 o 15 e 30 massimo diciamo 15 e 30 va domani alle 15 e 30 facciamo la live sulla formula 1 allora ho in mente di creare una live dopo ogni gran premio però per interagire con voi per scambiare un pensiero con i vari appassionati di formula 1 e di motori in generale solo che chiaramente si è detto di tutto e di più di quello che è successo al gran premio di ieri argomento della prima live che voglio fare con voi amici più che più che followers preferirei definirvi amici chiaramente iscrivetevi e fate iscrivervi al canale se siete interessati di formula 1 di calcio di moto gp e anche su attualità ogni tanto ho fatto qualche video allora argomento della live di domani pomeriggio chi è il più grande ovviamente chiaramente chiaramente paragonare epoche diverse è impossibile regolamenti diversi vetture diverse contesti diversi avversari diversi allora argomento della live di domani pomeriggio ore 15 e 30 chi è il più grande o chi è stato il più grande tra Ayrton Senna Michael Schumacher Lewis Hamilton questo è l'argomento della live di domani allora ci si vede domani pomeriggio alle 15 e 30 spero siate siate numerosi a seguire questa live chiaramente l'appuntamento e per le 15 e 30 ora magari dai commenti sotto questo video capirò in quanti siete in quanti saremo domani pomeriggio alle 15 e 30 e soprattutto se vale la pena continuare con queste iniziative ripeto se la cosa domani va bene sono intenzionato a fare una live la live del lunedì la live che chiamerò gli ingegneri l'ingegnere del lunedì per ricordare una celebre battuta di Enzo Ferrari vorrei fare una live dopo ogni gran premio ovviamente da Monte Carlo in poi anche se Monte Carlo avrò molte difficoltà a seguirlo per motivi di lavoro ragazzi fatemi sapere in quanti saremo domani alle 3 e mezza di pomeriggio chiaramente chi lavora il lavoro viene prima di tutto domani alle 15 e 30 sono intenzionato a fare la prima live vedremo dai commenti dai like in quanti saremo e decideremo quanto domani se farla io domani alle 3 e mezza sono qua fatemi sapere iscrivetevi al canale domani live e discussione ciao ragazzi buon pranzo